Nuovo aumento di casi in provincia di Caltanissetta e anche in città. Sono 691 i pazienti positivi risultati nelle ultime 24 ore, dei quali 171 a Caltanissetta. Nelle dettaglio i numeri del report inviato quotidianamente dall'ASP da due anni a questa parte. A Caltanissetta i positivi sono 1525 in quarantena domiciliare, 8 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva. E intanto i ricoverati non aumentano, anzi c'è una diminuzione. Infatti sono 67, ieri erano 68 i ricoverati positivi in malattie infettive, mentre continuano ad essere 8 i ricoverati in terapia intensiva. Scende sotto la soglia dei 10.000 il numero dei positivi in quarantena domiciliare, ovvero 9.112. Sono soltanto 3. Al momento i pazienti ricoverati in altro pesidio, 2 di Caltanissetta e 1 di Gela. Intanto in totale sono ad oggi 355 i decessi in provincia di Caltanissetta da Covid-19. Una riunione in prefettura ha sancito alcune nuove regole che entreranno in vigore a breve, ovvero ci saranno l'emissione di alcuni provvedimenti massicci di liberazione dello stato di quarantena e l'introduzione di un nuovo portale ASP Cittadini nel quale si potrà controllare il proprio stato di quarantena inserendo il proprio codice fiscale e un SMS che arriverà al momento della registrazione. L'ASP manderà un tutorial per far capire a tutti i cittadini quale saranno le nuove modalità.